Significa che dobbiamo ancora convivere e soffrire questa situazione perché è una nuova normalità ovviamente con delle limitazioni per ancora diversi mesi. Adesso non so se saranno 7, 8 o un anno, sicuramente ne verremo fuori quando vi sarà un vaccino, ma attenzione, attenzione a dire vi sarà un vaccino. Un vaccino disponibile, fatto dalla popolazione, significa un anno, probabilmente un anno o anche più di un anno. I numeri salgono, salgono molto lentamente e assolutamente non vanno paragonati, come diceva adesso Bassetti, alla situazione di febbraio-marzo. Ora è un'altra situazione, i numeri continueranno a salire, questo è inevitabile. Cioè noi a ottobre, siamo a ottobre, a novembre, a dicembre, dobbiamo prepararci a dei numeri ovviamente più alti, vista anche la situazione, no? Sicuramente più alti, è chiaro che poi più il virus circola più è probabile che...